Musica Se vogliamo questa sega c'è un ponte in parte che si crea Perché prima abbiamo ascoltato Enrica Perucchetti che ci parlava di cyber uomo E potremmo dire anche che è la generazione forse cyber questa La generazione iperconnessa, ipertecnologica, dipendente dalle nuove tecnologie E c'è veramente un libro molto forte soprattutto perché si basa poi su dati statistici Si chiama Generazione Z, fotografia statistica e fenomenologica di una generazione ipertecnologica e iperconnessa Libro di Ettore Guarnaccia che vado subito a salutare Ciao Ettore Ciao Fabio, grazie per l'invito, è un piacere Tu sei uno dei nostri quindi il piacere è doppio Sì, è veramente un piacere entrare a far parte della famiglia di Border Knights Dopo tanti anni che ascolto con piacere tutti gli interventi dei tuoi ospiti Allora Ettore, tu sei un manager se non sbaglio, giusto? Ti occupi proprio di cybersicurezza Ecco, come è nata l'idea di fare questa cardiografia, se vogliamo, di questa generazione di cui si parla tanto Ma anche poco afferrabile, non è semplice descriverla Sì, da dove hai iniziato fa un po' sorridere, ma hai iniziato da mio figlio Io ho un figlio che adesso ha 14 anni, ma qualche anno fa, quando ne aveva 6-7 Ha iniziato a interagire con queste tecnologie E lì, osservandolo, mi sono reso conto che quello che era la mia preparazione in tema di cyber security Poteva essere trasposta nell'ambito familiare E lì mi sono accorto anche che lui era abbandonato all'uso di queste tecnologie E senza avere una consapevolezza, una preparazione sufficiente per essere a riparo dei rischi E delle minacce che incombono appunto nell'utilizzo quotidiano E da lì è nata l'idea di partire con un progetto di volontariato Che ho avviato nel 2014 Di portare nelle scuole, tramite un'associazione di volontariato qui su Padova Che ho contribuito a fondare qualche anno prima Di portare questa opera di consapevolezza proprio verso i ragazzi Verso i loro genitori e soprattutto verso gli insegnanti Tu subito dici Quando io faccio degli eventi di sensibilizzazione I genitori che ascoltano, ma anche gli insegnanti, rimangono sconvolti Ci spieghi perché? Devo dire la verità Io parlo in maniera molto trasparente in questi eventi Soprattutto verso gli adulti, verso i genitori e gli insegnanti Perché ci sono molti temi di cui vale la pena parlare E di cui si parla molto poco Alcuni sono totalmente sconosciuti Io quando ho cominciato ad approfondire, a studiare Le varie tematiche che riguardano appunto le minacce Che incombono sui giovani, sui bambini e sugli adolescenti Online Mi sono reso conto che c'era veramente di tutto E studiandole a fondo Beh, avrei visto che il mio libro è abbastanza corposo Perché tratta più di 40 argomenti Mi sono reso conto che c'erano degli argomenti Che negli incontri che si fanno Per esempio nelle scuole O anche quelli che fanno alcuni psicologi O legali Diciamo aperti al pubblico Ci sono degli argomenti che vengono completamente ignorati Si parla molto di cyberbullismo e di bullismo in generale Si parla molto poco Ad esempio degli aspetti della dipendenza tecnologica Si parla molto poco dell'adescamento online Si parla molto poco di altri temi legati per esempio alla sfera sessuale Che possono avere dei risvolti veramente drammatici E quando io rappresento queste Queste che sono delle novità di fatto per molti genitori e molti insegnanti Questi rimangono veramente stupiti e sconvolti E una delle domande che mi fanno sempre è Perché non se ne parla mai di queste cose Devo dire la verità I media fanno abbastanza confusione Sulle varie terminologie Tendendo ad affogare nel tema del cyberbullismo Tanti altri fenomeni che non hanno niente a che vedere col cyberbullismo Ne fanno più una specie di minestrone Che poi alla fine al pubblico risulta difficile da comprendere Da qui anche la mia volontà Di rappresentare le cose in maniera molto chiara Sia di persona negli eventi E poi con questo libro Che nasce da un'indagine svolta proprio sui ragazzi stessi Sui bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni Quali sono alcune realtà che sono emerse da questo studio Che ci possono far capire la reale situazione Ovviamente come tutte le statistiche Ovviamente è necessaria una generalizzazione Ma lo spaccato che emerge Dei fenomeni più preoccupanti qual è? Il fenomeno più preoccupante in generale Che è emerso appunto dai dati che ho raccolto Da oltre 2000 questionari Che ho sottoposto appunto a bambini e adolescenti Dai 9 ai 18 anni È quello della dipendenza Dipendenza in generale In particolare la dipendenza tecnologica Credo che sia evidente a tutti A volte non ci si fa caso Ma facendoci mente locale Penso che sia evidente a tutti Che questa dipendenza tecnologica Pervade un po' tutta la società E quando si parla di bambini e adolescenti Il discorso diventa molto più critico Io ho rilevato da parte loro Una forte predisposizione A sviluppare forme di dipendenza Che diciamo Con l'andare avanti dell'età Può sfociare in forme patologiche Dipendenza che Può essere diciamo Quella classica dallo smartphone Che ormai è diventato un appendice Delle loro mani Per quasi tutta la giornata A quella per esempio da videogiochi Ci sono diversi adolescenti Soprattutto nella fascia dagli 11 ai 16 anni Che si abbandonano per diverse ore Ai videogiochi Che sappiamo anche Sono in buona parte Anche particolarmente violenti Come contenuti Senza un controllo parentale Senza che i genitori Impongano dei limiti E questo non fa altro che Alimentare questa tendenza Alla dipendenza Dipendenza che Deriva Ahimè proprio da come Sono disegnate e sviluppate Le tecnologie moderne Dalla missione stessa Di chi le ha sviluppate Nel libro riporto Diverse testimonianze Di persone che hanno lavorato In Silicon Valley Per Apple Per Facebook Per Google Per loro stessa missione Le tecnologie sono sviluppate apposta Per catturare il più possibile L'attenzione degli utenti E tenerli il più possibile Attaccati al display Questo in generale Ovviamente Si può immaginare Che un adulto Ha delle difese Un po' più Predisposte A limitare Diciamo Il tempo passato Davanti al display Per bambini e adolescenti Invece Le difese sono molto basse E c'è scarsa consapevolezza E quindi cadono vittima Di questa attrazione fatale Che li porta Ovviamente A vivere Continuamente Questa esperienza online Senza interruzione E questo Dimmi pure No no Stavo dicendo Anche la Mi chiedevo Una generazione Che è nata È nativa digitale Come la chiamano Cioè quali modificazioni Anche Apprettamente Psicologiche Non solo Da questo contatto Continuo Con lo smartphone Con la tecnologia Con tutto Che diventa social E tutti quelli Che sono anche Gli abusi Cioè Mi chiedevo Quale mutazione Poi ne veniva fuori Rispetto ad altre generazioni Io quando finivo Le scuole superiori Per dire Era appena arrivato Il telefonino Ma non era certo Già portarlo a scuola Insomma era una cosa Vista come proibita Ancora non si faceva neanche Ecco immagina adesso Che situazioni ci siano Sì Ci sono delle modificazioni Assolutamente Sia a livello Neurologico Sia In termini comportamentali Devo premettere Che io La mia posizione Non è quella Di demonizzare Le tecnologie Perché le ritengo Assolutamente Visto che fra l'altro Me ne occupo per lavoro Le ritengo Delle grandi opportunità Per sviluppare Nuove forme di business Nuovi sistemi di aiuto In generale Per la società Quindi Le tecnologie in sé Nascondono veramente Delle grandi potenzialità Quello che È il problema È che uso Ne facciamo In questa In questa nuova generazione Ovviamente Le modificazioni riguardano La sempre maggiore tendenza Ad adottare appunto A stare davanti a questo display A interagire con le tecnologie sociali Generando da una parte Una forte predisposizione A sviluppare altre forme di dipendenza A causa del meccanismo Cosiddetto Della ricompensa variabile Che viene largamente sfruttato Dai produttori di tecnologie Sia a lato social Sia a lato videogiochi Il meccanismo della ricompensa variabile Faccio qualche esempio Da una parte Sulla parte social per esempio È caratterizzato Dalle notifiche Dal sistema dei like Dei follower Sono tutti quegli elementi Che danno All'utente Delle piccole esplosioni Di piacere Ogni volta che Si riceve una notifica O si riceve un commento O un like O un nuovo follower Si aggiunge al tuo canale E cose di questo genere Che non fanno altro Che alimentare Anzi che generare I cosiddetti boom dopaminici Nel cervello Che vanno a stimolare Specifiche aree del cervello Che sono deputate Alla gratificazione artificiale Più queste aree Vengono sollecitate Più vengono potenziate E più il cervello si adatta Per favorirne l'uso Il che vuol dire Che si genera veramente Una predisposizione Ad altre forme Di gratificazione artificiale Che possono essere Ad esempio Quella Dei videogiochi Quindi L'uso L'abuso Di videogiochi Piuttosto che L'abbracciare Il gioco d'azzardo O Sviluppare altre forme Di dipendenza Per esempio Da sostanze Perché le aree Si è studiato Che le aree Toccate a livello Neurologico Sono le medesime Io parlo nel libro Non solo di sostanze Ma anche di energy drink Perché anche quello È un tema Molto molto importante Che riguarda Questa nuova generazione Diciamo Restando sull'ambito Della dipendenza Tecnologica Il contraltare È dovuto Allo sviluppo Di Forme Di depressione Di ansia E Di senso Di solitudine Che Io noto Veramente In larga parte Su tutti coloro Tutti gli adolescenti Che pubblicano Online In particolare Su Instagram Io cerco Di mantenermi Aggiornato Seguendo Vari profili E vedo che Le sensazioni Di noia Di Di solitudine Gli stati depressivi Sono molto molto diffusi Soprattutto Fra Fra le ragazze E Questo è dovuto Al fatto che Queste tecnologie Intermediano Le relazioni Interpersonali Fra Fra di loro Fra questi Adolescenti E quindi Non si è passati Dai rapporti umani Diretti In cui c'era un rapporto Affettivo Emotivo Anche a volte Fisico A rapporti Che sono Fortemente Intermediati Dalla tecnologia Che va A separare L'aspetto emotivo Da quello Della comunicazione Verra e propria A livello Di gesti Di autolesionismo Mi interessava Sapere Quanto sono diffusi E comunque C'è sempre Un'incapacità Di ascolto Di genitori Una poca presenza Cioè non è solo La tecnologia Cioè la tecnologia È una conseguenza Cioè di un vuoto Precedente Secondo te Sì Assolutamente sì Il fatto che Questa generazione Che io ritengo Che sia quella Che deve pagare Lo scotto Di questa Di questa situazione Sociale Cioè Da una parte Della forte spinta Verso lo sviluppo Tecnologico Dall'altra Di una retratezza Culturale Da parte Delle famiglie E della scuola Che non riescono A portarsi al passo Con le tecnologie A comprenderne I meccanismi E quindi Non sono in grado Di trasferire Ai figli Agli studenti Quelli che sono I giusti strumenti Cognitivi Per riconoscere Le minacce Di un uso Scorretto Delle tecnologie E soprattutto Di adottare Comportamenti Preventivi Per evitare Di cadere In incidenti Di percorso Dal punto di vista Dell'autolesionismo L'autolesionismo Fa parte Di tutta quella serie Di fenomeni Direi in buona parte Emulativi Che vengono Proprio alimentati Dai social Tutto questo Senso di depressione Questo senso Di solitudine Spesso trovano sfogo In dei fenomeni Emulativi Che Consentono appunto Di esprimere Questo tipo Di disagio E qui Oltre all'autolesionismo Citerei L'anoressia La bulimia O la tendenza Suicidio Che sono Degli elementi Insieme all'autolesionismo Che vengono fortemente Sponsorizzati Su particolari social Da moltissimi Adolescenti E che fanno Molti proseliti Fra Fra i loro pari A me è capitato Durante gli eventi Con i ragazzi Che Ragazzine In particolare Si avvicinassero A me Alla fine dell'evento Mostrandomi le braccia Con tutti i tagli Come a denunciare Una situazione Di disagio E trovandosi davanti Una persona Con cui evidentemente Potevano parlarne E La cosa che fa più male È da una parte Che i loro genitori Non erano al corrente Di queste pratiche E dall'altra Che quando io Mi sono fatto promotore Di un intervento Verso la scuola Non ho sempre trovato Una particolare sensibilità Da parte degli organi scolastici Che pure erano Conoscenza del fenomeno In termini di Aiuto E di supporto psicologico C'è diciamo In generale Un'impreparazione Diffusa A trattare Tutti questi argomenti Nella maniera Più corretta Più efficace E insomma E' uno spaccato Che prima di tutto Addolora Perché poi Alla fine Quelli che sono Le conseguenze più estreme Appunto Sono figlie Poi di Di altri tipi Di dinamiche Tra le varie statistiche Che presenti Ce n'è una Che ti ha abbastanza sconvolto E che sconvolge Magari quando la diffondi Direi che sono Tutte abbastanza sconvolgenti Molto Molto Sconvolgente Ad esempio E' quella Sull'adescamento Online Che Riguarda Veramente Tanti Tanti ragazzi Adesso Se riesco a tirare fuori Qualche dato Al volo Posso darti anche Qualche statistica Ma Diciamo che E' un tema Del quale Non si parla Mai Negli eventi Dedicati Appunto Al Diciamo Al tema Dei rischi Online Che poi Viene Sempre Definito Cyberbullismo E Quindi E' un tema Che assolutamente Invece va affrontato Perché moltissimi Ragazzi Sono costantemente Contattati Da malintenzionati E spesso Non reagiscono Nella maniera Nella maniera Corretta Cioè Ignorando O addirittura Bloccando Queste persone Ma molti Per curiosità Tendono A rispondere E Su proposte D'incontro Cadono Anche Nella Nel tranello Di incontrare Direttamente Queste persone O Peggio Ancora Di scambiare Con queste persone Questi malintenzionati Dei contenuti Diciamo Compromettenti Di nudità Insomma In situazioni Appunto Generali Compromettenti Che poi diventano Leva di ricatto Per O ottenere Ulteriori contenuti Oppure Appunto Arrivare All'incontro L'incontro Di persona Importante Capire Un'altra cosa Dell'adescamento Che l'adescamento È spesso Inteso Generalmente Come adescamento A scopo Di abuso sessuale In realtà L'adescamento Sta diventando Un fenomeno Molto più Esteso Nel senso Che l'abuso sessuale È uno degli obiettivi Ma Gli obiettivi Possono essere Diversi Possono essere Quello Del rapimento Possono essere Quelli Dell'adozione illegale Del traffico Di organi Diciamo che Una volta Che il minore Cade Preda Di questi Benintenzionati Fisicamente Si trova Tu per tu Può succedere Qualsiasi cosa Importante Capire che Nel caso Dell'abuso Sessuale Quanto meno Il ragazzino Torna a casa Anche se Traumatizzato In altri casi Potrebbe non Tornare Non tornare Più Siccome Ne abbiamo parlato Due settimane fa Degli Kikomogi Quanto è diffuso Perché Sentivamo Dai Kikomori Italia Che Anche nel nostro Paese Sono tantissimi I giovani Che ne sono Preda Si Si stima Che siano Diverse centinaia Di migliaia In Italia Io L'ultima stima Era di 800.000 E' un fenomeno Che Ha a che fare Con la dipendenza Tecnologica Quindi L'abbracciare Le tecnologie Ma Diciamo La tecnologia Non è l'origine Di questo fenomeno E' il fatto E' più il fatto Che questi ragazzi Decidono Di isolarsi Per fuggire A una realtà Che La quale Non si sentono In grado Di Partecipare Di essere parte Non Non se la sentono Di affrontare E quindi Decidono Di isolarsi E l'unico Modo Per restare In contatto Con la società E' appunto Quello Di utilizzare Le tecnologie Di comunicazione Quindi I social In particolare Per Diciamo Non staccarsi Completamente Dalla Dalla società Spesso Si Si confonde Il fenomeno Con La dipendenza Da internet La cosiddetta IAD Internet Tradition Disorder In realtà Sono due fenomeni Completamente Differenti Che hanno Origini Differenti Uno Ha un'origine Più Emotiva Dal punto di vista Proprio Della Fuga Dalla società E l'altro Può avere Sempre un'origine Emotiva Ma E' più legata Appunto A vuoti Emotivi O problemi Psicologici Più generici E anche Anche questo Insomma E' La punta Dell'iceberg Infine Ti chiedo Ecco Cosa Questo patrimonio Di dati Che emerge Di spaccati Come potrebbe Essere utilizzato Per Cercare Di fare Qualcosa Perché poi E' giusto Conoscere Poi il passo Seguente E' quello Cosa Possiamo Fare Sì Su questo La risposta Ce l'ho Ed è La risposta Sta anche In quello Che è il mio Impegno Ormai Da sei anni A questa parte Bisogna Investire Sulla cultura A livello Familiare E a livello Scolastico Da una parte Favorendo L'aumento Della consapevolezza Nei genitori Con eventi Mirati Anche attraverso Il sistema Educativo Aumentando Appunto La conoscenza Dei vari Meccanismi Che stanno Dietro Le tecnologie Andando A colmare Questo gap Generazionale Che c'è Appunto Fra genitori E i loro Figli Dall'altro Molto più Importante Sarebbe Quello Di investire A livello Proprio Ministeriale Sul sistema Educativo Con l'introduzione Di una Materia Che io Chiamo Educazione Digitale E che Diventi Parte Integrante Della didattica Già A partire Dalle elementari Per insegnare L'uso Porficuo Di queste Tecnologie E un uso Responsabile Sicuro Insegnando Ai bambini Io direi Già A partire Dai Sette Otto Anni Qual è Il comportamento Da adottare Nell'uso Di tecnologie A quali Aspetti Bisogna Fare A fare Attenzione Come Riconoscere Certi Meccanismi Per esempio Nell'ambito Dell'adescamento Oppure Nell'ambito Della sfera Sessuale Quando Si è indotti A scambiare Contenuti Compromettenti Piuttosto che Banalmente Anche Una cosa Che non farebbe male In senso più generale Alla società A come Rapportarsi In maniera Corretta E rispettosa Nella comunicazione Con i social Questo è un impegno Che io sto portando avanti Appunto in questi anni Lavorando direttamente Con gli istituti scolastici Lavorando con gli uffici provinciali Del Ministero E Facendo incontri Con i genitori O aperti al pubblico In generale Credo che Questa cosa però Non debba essere lasciata All'impegno dei singoli Ma debba diventare Un impegno Più Generale Con una spinta Governativa In maniera tale Da poter Avere un programma Strutturato Di Di formazione Di consapevolezza Che Consenta Poi Agli adulti E qui Quando parlo di adulti Intendo proprio Genitori E Docenti Di Di essere in grado Di trasferire Efficacemente Questi strumenti cognitivi Verso i ragazzi Verso i bambini I ragazzi Per farli crescere Con un Con un Uso responsabile Di queste tecnologie Etto Io ti ringrazio Dove si trova? Perché È un libro Insomma Impegnativo Nella lunghezza Ma si legge benissimo Perché poi ci sono Un sacco di grafici Di cose Anche perché È uno spaccato Completissimo Di appunto Della nostra Generazione Z Dove si trova? Beh Il libro È stato autoprodotto Si trova su Amazon Il titolo è Generazione Z Fotografia statistica E fenomenologica Di una generazione Ipertecnologica Iperconnessa Il libro Contiene Oltre 40 temi Legati appunto A questi aspetti Che abbiamo Detto oggi Contiene Oltre 500 grafici Statistici Su tutte le varie Tematiche Trattate Dal questionario Che era stato Sottoposto Ai ragazzi E soprattutto Contiene Oltre 200 Citazioni Di studi Universitari Medici O psicologici Legati Ai vari aspetti Che appunto Vanno a supportare Le tesi Che ho portato All'interno del libro C'è anche Ci tengo a dire Che c'è anche Un utile Indice analitico Visto che i temi Trattati sono tanti E anche i termini Usati Sono molto Sono diversi E sono anche In parte un po' Ostici Alla fine del libro C'è un indice Analitico Che consente Di identificare I specifici termini E poter andare Direttamente Alle pagine In cui sono trattati Quindi può essere usato Come una sorta di Dizionario Vista la Lunghezza appunto Del libro Però è anche vero Che come hai detto tu Si legge abbastanza bene Sia perché i temi Sono molto interessanti Sia perché appunto Saltando i grafici Poi i contenuti Sono abbastanza rapidi Da leggere Grazie a Ettore Guarnaccia Grazie soprattutto Per questo tuo Grandissimo impegno sociale Che insomma Non è da tutti E ci piace sottolinearlo Quando ci sono persone Come te Quindi innanzitutto Grazie di questo E grazie di essere stato con noi Sono io che ringrazio te Per il tuo impegno Che è assolutamente fondamentale Saluto tutti gli ascoltatori E grazie ancora Per l'invito Grazie a tutti